Lo sportello del cittadino è a Taranto, nel cuore del borgo Umbertino, ci troviamo precisamente in Piazza Garibaldi e ho alle mie spalle una struttura che un tempo era un infopoint turistico, uno sportello del cittadino, ma ora da numerosi anni giace già dall'amministrazione Stefano, giace così abbandonato. Vedete anche una vetrata, un vetro è stato rotto e quindi ora questa struttura è così abbandonata, assolutamente inutilizzata e dispiace perché è davvero una bellissima struttura, ben realizzata, accogliente, che potrebbe ovviamente avere una diversa destinazione. Anzi, usiamo il plurale, diverse destinazioni perché potrebbe essere certamente, così come è nata, un infopoint turistico, i turisti vengono e chiedono informazioni, hanno déplian e quant'altro. Oltretutto si trova in una zona assolutamente privilegiata dinanzi al Martà, al museo archeologico, ma al di là di questo, dico, potrebbe anche essere, si potrebbe anche realizzare un'altra idea e considerando il nome, sportello del cittadino che neanche a farlo apposta, ha la stessa denominazione della mia rubrica televisiva e web, dicevo potrebbe essere anche, con lancio questa idea, magari essere un punto in cui funzionari comunali potrebbero, per ipotesi, raccogliere le varie segnalazioni dei cittadini, una sorta di ufficio reclami nel quale appunto i cittadini potrebbero rivolgersi e appunto evidenziare tutta una serie di situazioni rispetto a cui intervenire, dicevo, una sorta di ufficio reclami. E sarebbe un punto importante perché ora che non ci sono più le circoscrizioni, questo punto, e quindi che svolgevano una funzione di raccordo, di filtro tra l'amministrazione centrale e la base e i vari quartieri, ecco qui potrebbe essere un punto di raccolta di segnalazioni, ma sto dicendo così, come potrei dire anche, come ho detto già poc'anzi, il discorso dell'info point turistico. Ripeto, è assurdo che una struttura così bella che, vedete, pronta per l'uso, c'ha tutto, rimanga così da anni e anni chiusa. E' un peccato, guardate, ironia della sorte, c'è tutto all'interno, c'è addirittura una scrivania, ci sono le sedie, c'è tutto, c'è la predisposizione anche al telefono, a internet e quant'altro, sarebbe perfetta, c'è persino lo scivolo, la pedana per i disabili, qui qualche depravato di turno, come dicevo prima, ha rotto la vetrata, però davvero è pronta per l'uso, non c'è da fare niente, assolutamente, c'è solo da aprirla, cambiare il vetro, risistemare eventualmente i collegamenti, appunto, luce, per quanto riguarda la luce, per quanto riguarda il telefono ed internet e poi è tutto pronto. Sfruttiamo queste occasioni perché, ripeto, sono a costo zero e poi, come dire, rappresenterebbero un motivo, uno strumento davvero operativo di marketing del territorio. E viva Dio, stiamo nel cuore di Taranto, abbiamo una bellissima piazza, si sta tentando di riqualificare la città, beh, a questo punto, perché tenere chiusa questa struttura? Vorrei vederla in rapidissimo tempo, un mesetto, non di più, così, vedere i dipendenti all'opera, all'interno, vedere una città che pulsa. Per favore, riattiviamo questo gazebo. Per favore, riattiviamo il nostro canale. Per favore, riattiviamo il nostro canale.